Tutti i volontari oggi in corsia, medici, infermieri, direttori, insieme per ricordare che la prima causa di morte in Italia sono le patologie cardiovascolari, infarti, ictus e che ammalarsi non è un destino ineludibile ma modificabile agendo sulla prevenzione. Nel caso dell'infarto questo è sostenuto da una malattia arteriosclerotica la quale non ha un'unica causa ma tutto un insieme di fattori di rischio, alcuni dei quali sono modificabili come per esempio il fumo di sigaretta, l'ipertensione, il diabete, l'ipercolesterolemia, l'obesità e la sedentarietà. Ecco ebbene noi dobbiamo concentrarci su queste problematiche. Conoscere dunque i fattori di rischio, modificare abitudini e stili di vita scorretti, tenere monitorati alcuni valori quali pressione, colesterolo, glicemia, la prevenzione deve tornare in primo piano dopo la lunga emergenza della pandemia che ha complicato la situazione della sanità. Ora il Veneto orientale ha recuperato le prestazioni sospese nonostante i ritmi restino alti. Ogni giorno abbiamo circa mille richieste nuove di visita specialistica, ne facciamo 360 mila all'anno, 2 milioni e 3 se si considerano anche le prestazioni di tipo laboratoriale. Numere impegnativi che l'Ulss4 riesce a sostenere anche grazie a politiche accoglienti rivolte al personale sanitario. Mettiamo a disposizione anche una foresteria a Jesolo per il personale che arriva da fuori e poi il contesto è molto accogliente. Un corso di laurea aziendale forma gli infermieri, al Veneto orientale ne servono 50 all'anno solo per coprire pensionamenti.